90 minuti da giocare con passione, coraggio e abnegazione, 90 minuti per cercare di vincere la terza partita consecutiva in campionato, 90 minuti per provare a scalare altre posizioni in classifica, 90 minuti per far vedere a tutti chi è la Juventus. Ci siamo, è tutto pronto? E allora via, si parte, buon divertimento con Spezia e Juventus la ventitresima giornata del campionato di Serie A. Attenzione al calcio d'angolo a favore della Juventus, Paredes, il suo traversone a giro in mezzo colpo di testi, Danilo, la palla che finisce direttamente out di pochissimo, la respinta di Ekdal, poi nuovamente Alessandro, Alessandro trova il corridoio giusto per Paredes, Paredes sulla corsa per Kostic, Kostic in mezzo verso Moise Ken che ci arriva, la Juventus è in vantaggio, Moise Ken sinistro all'angolino al 32esimo minuto, la Juventus è avanti con Moise Ken, la zampata sottoporta, Paredes per Kostic, cross al bacio, arriva di controbalzo, Moise Ken e la va a piantare all'angolino. Agudelo, viene servito, Agudelo, Agudelo largo per Verde, Verde dentro alle rigore, palla morbida in mezzo, colpo di testa, Perin, la va a bloccare su Shomurodov, grande occasione questa per lo Spezia. Occhio a Giasi, vuole girarsi Giasi per Burabian, Burabian cross in mezzo, attenzione, Verde, Verde, sinistro di Verde, Perin, la va a bloccare. Alessandro per Danilo, Danilo verso Di Maria, va la Juventus, Di Maria, Di Maria! Anche Di Maria illumina questa notte al picco di la Spezia, gol favoloso, un gol da campione del mondo, 2-0 per la Juventus. Questo è un grande gol di Anche Di Maria perché a volte non serve solamente calciare di grande potenza, serve piazzare il pallone in bucca d'angolo. Pallone dentro, con Amian, cross dentro, Giassi, grande parata di Perin, grande parata di Perin. Di Maria dentro verso Vlaovic, palla larga, Kostic, Kostic, missilata, in curva, Maldini, il suo traversone a giro in mezzo, colpo di testa, Perin, dice Di Maria Nicolau, parata strepitosa di Mattia Perin. Buonucci, Buonucci prova a scodellare questo pallone verso Di Maria, è l'ultima emozione di questa gara del picco, Di Maria punta la porta, Di Maria ancora, Di Maria! Palla fuori, di pochissimo, non c'è più tempo, finisce qui, la Juventus vince al picco di la Spezia, 2-0. Pagano, 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 Pagano!